Torna alla vittoria il Pratola che a Leziorici batte il controguerra con un gol per tempo e rimane a ridosso del Mutignano in solo in seconda posizione. Non è stata una gara brillante da parte dei Nerostellati che però l'hanno vinta con pieno merito, non concedendo nulla alla formazione del controguerra. Le squadre si presentano in campo con alteggiamenti diversi. Il Pratola rispetto alle gare precedenti gioca con un 4-4-2 mettendo Danilo Del Conte al posto di Sablone mentre Bitoni sempre in cabina di regia davanti le punte Dionisi e Palombizio. Al pronti via già una palla gol da parte dei Nerostellati. Giannini tenta il passaggio dietro al portiere del controguerra Ameli. C'è un malinteso tra i due, la palla stava per infinarsi in porta tra il più classico degli autogol alla fine l'azione sfuma. Il Pratola gioca sotto ritmo, non riesce a giocare controguerra, in qualche modo cerca di spezzettare il gioco, un gioco d'ostruzione, allontanare il pallone. Al venticinquesimo c'è una bella punizione di Vitone in posizione defilata. La parabola è bella, pacella nel tentativo di colpire di testa, la palla stava per infilarsi. Al trentunesimo un calcio d'angolo da parte del Pratola con Mitone valente che prova di testa ma sfiora il palo. Al trentaseiesimo il Pratola sblocca il risultato. Risultato, Safon serve il pallone per Del Conte, cross da parte di Del Conte corto, si avventa su quella palla Dionisi, cinturato dal portiere Ameli. L'arbitro Carlucci a due pasti decreta la massima punizione ai nero stellati. Palombizio si riscata dell'errore fatto con Notaresco e porta i suoi in vantaggio. Trovato il vantaggio il controguerra cerca in qualche modo di venire in avanti ma il Pratola guida a giocare sotto ritmo. Al quarantaseiesimo un calcio d'angolo da parte del Pratola con Mitone, colpo di testa di Palombizio e palla di poco alta. Tutto qui il primo tempo. Chiaramente Meo è stato inoperoso. Nel secondo tempo arriva il raddoppio da parte del Pratola. Angolo battuto dai nero stellati, il cross bello al bacio di Capitan Mitone. Stacca di testa Valente, portiere del controguerra Ameli. Prima intercetta il palone, proprio non può far nulla e la palla finisce in rete per 2 a 0. A questo punto il controguerra cerca in qualche modo una reazione e si scopre. Il Pratola agisce di rimessa. Al dodicesimo c'è un ottimo scambio Palombizio di Unisi-Vitone che davanti la porta in posizione defilata effettua un tiro in crociare. La palla sfiora il palo più lontano della porta di Ameli. Al ventesimo ancora il Pratola che si rende pericoloso con Delgizzi da lontano ma la palla finisce alta. Poi entra la gatta a posto di Dionisi per cercare di agire di contropiede. Alla trentaquattresima ancora una bellissima azione di Palombizio che dà la palla a Vitone che tenta il tiro dentro l'area di rigore a mani aperte, l'area spinta di Ameli. Dopo due minuti di recupero, triplice fischio dell'arbitro Carluccio, dodicesima vittoria stagionale del Pratola. Fa mantenere i nero stellati a un punto dal Mutignano. Torna la vittoria a Lezio Ricci con un risultato un po' più corposo rispetto ai precedenti. Max Palombizio torna dal gol anche se dal dischetto. Voi avete giocato un po' sotto ritmo come sta accadendo un po' spesso in casa con un avversario di bassa classifica che però bisogna sempre prendere con le molte. Forse non abbiamo fatto una delle migliori prestazioni però venivamo da due partite difficili in cui avevamo raccolto solo un punto e oggi era importante vincere. Siamo entrati con l'idea di portare a casa i tre punti al di là della prestazione. Ci siamo riusciti e ora speriamo di giocare meglio in modo che sarà più facile anche vincere le partite se si gioca meglio.